Di poter iniziare, vorremmo cominciare con Raimondo Rotondi che farà dei monologhi in lingua e laborina sul brigantaggio. Questi monologhi fanno parte di uno spettacolo che noi abbiamo creato sul brigantaggio di circa due ore dove si afferrano monologhi in lingua e laborina recitati da Raimondo e altre persone con musica popolare. E siamo andati anche sul mantinone in angolo, quindi se un giorno volessi fare uno spettacolo sul brigantaggio vi garantiamo l'inedito e soprattutto non c'è la SIAE perché sono testi scritti da noi e tradotti da Raimondo. Adesso lui comincerà dei monologhi che riguarderanno soprattutto naturalmente il 1799 che spezzerà i nostri interventi. Tra l'altro Raimondo Rotondi viene dal nord del Sanio perché la regione sanita finiva al fiume Liri, qui viene Tarbino, quindi diciamo che il nord del Sanio è qua. Ma voi vi riportate il 1799, non vi potete riportare, ci sta lì, ci stanno le nonna, le nonna, le nonna, ma ti ritrovo qui. E' un'altra parte, che hanno passato il 251 anno. Io ci stavano, un anno fu proprio una roba torna, ma come ho detto prima, come ho detto già, a ottobre 1798, i francesi erano arrestati gli papi perché loro non gradoevano a niente, non gradoevano ai papi a te, non gradoevano ai papi, gradoevano ai papi, a me che erano tagliate la gioca, allora cura aiutare i papi, con tutti gli esercizi, arriva tanto, però i fatti che erano arrestati, il comandante li rilattò a casa a Maretta, con tutta la gente buona che teneva a essere, e io tolgo questa gente a casa a Maretta, io gli ho detto che voglio perdere, io riprovo a me, comandante frate, ma comandante frate, certo vuoi dire che ti ha passato pure a scappare su, quando se lo perdano, si capisce? I chiesti ci hanno fatto perdere, poi ci hanno fatto perdere e hanno pensato solo a scappare, da botta, un soldato è stato arrivato lì, non sapevo chi vuoi fare, chi correva a destra, chi correva a sinistra, la gente si è trovata in francese, dentro alla casa, voi pensate che i francesi erano buoni, che erano soldati urbani, macini, arrivavano con una fama che se gli portava, tutto squarciato, senza scappare, entravano dentro la casa e si fregavano tutti, accedevano alla gente e alla fine quando si riempano avevano fuoco pure alla casa, e che ti arriva a fare? Io stavo all'occhio andando, stavo all'esercito, aiutando i maggiori, e io mattino mi riesco a cercare di fare quello che poteva fare, adorare un po' di gente per cercare di difendere, delle cose, correndo a Nazaretto, su un cavo, da notte, strascendendo con cinci dei cannoni che le sceme ritrovate, perché mi dava male, era fatta tutta, era fatta tutta la propria, non era niente più niente, ma la gente sceme dalla casa, con la pazza, con la preta, con la forca, con la ronca, alla fine, le francesi, tenendo un'accordo, le sceme riempano, le sceme riempano in dame, ma tu non sei con me, uno quando fa tante, tante che fatte, alla fine non ne ha fatto niente, come se ne erano i francesi, riempano tutti quelli che erano stati francesi, a come riempano, e se potevano dici più che era successo, dove veniva questa sitta, a me poteva bussare la gente dalla casa, io volevo andare a parlare con il re, ehi ma il re è da fare, il re sta brillando, il re può parlare con te, ma cì, tu chi sei? io sono Michele Arcangelo III, chiamato Frantiamo, sono combattuto per l'inizio, ehi ma il re non c'è niente, non c'è niente di parlare con te, ehi, tu sei stato in un po' calma, ora ti facciamo colonnello, facciamo colonnello ma non lo diciamo giù, è zitta, è zitta, 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 a un certo punto, non si potesse parlare giù, niente, tutti quelli che avevamo fatto, erano spariti, solo che avevano, gli francesi, che sono come Maraviglia, hanno spagato la lavoro, tutti gli erano venuti, hanno passato sette anni, che erano venuti, allora mi hanno aiuto a trovare, diciamo, tu sei colonnello, tu sei fato, le cose, tu ti raccomandare i corpi volanti, ehi, va buono, ma andiamo a trovare i corpi volanti, i soldati, ehi, ma pensici tu, trova i comandari, che si chiede, è una parola, trova i comandari, trova i temi che li hanno fatti prima, la gente, non dico, è più apprezzo, rammedia, rammedia, chiamano, ma alla fine, siamo arrangiati, e ti dico una cosa, starremo pure a venire, a terra in Galapia, come ne sapete che starremo a venire? Mentre gli amati, dice no, no, potete venire in Sicilia, che ti darà la fatura, proprio a voi che ti darà la fatura, per tutti i tempi che siete venuti, voi che stanno a venire, che ti darà la fatura, dice eh, ma ti darà venire, trovo in me che ti darà la fatura, eh, sono andata in Sicilia, il segreto è successo, il francese è venuto, allora dice, buono, ma è andato l'occhio, noi ci pensiamo, è il francese, no, no, non ci darei più l'occhio, ma lo sento a dire io, a sola, a sola, e chi ci vuole fare a sola? a sola, che trovo, che non usci, fiede, nel vicino ai confini, vabbè, sei da sola, come sei da sola, sei da trovare, gli uomini che erano stati con me, nel 1799, sono andato a trovare, Gaetano mi ha morto, dice, che fine hai fatto Gaetano? Ehi, ma Gaetano, che gli si è, gli si è impazzito, dice, che sei da cominciato a mangiare la gente, gli andano in chiuso, ma sai, adesso sarà pure morto, Gaetano, ingiustirà più, il chiavone, il chiavone, ma io mi sono fatto, i miei chiedi, che non ho perso tutto, allora, manchissimo, alla fine però, si è rancionato lo stesso, fra Panetta, Tancredo e Fontana, siamo fatti, io sefce, e hanno trovato, Francesco, il segretario, la prima volta, di sei nostre cagli, e sono andato a scappare, tre giorni dopo, però hanno arrivato agli altri, chi ti provola, spara, a nulla provola, c'è la scuola, da prima a più niente, sempre scappato, di scappando, scappando, alla fine mi hanno agchiappato, mi hanno agchiappato, e oggi, 11 novembre, 1806, mi ha toccato il trappuccio, se il segretario, questo francese, lo voleva fare, voi voleva, lo accoppate addirittura, che ho voluto, dice, ti ha dato i stessi gradi, che teniva prima, il colonnello, impiega il lungo, e, dice, ma ci siamo scattati, fino ad oggi, vuoi vincere il puccio, e perché non si deve fiappare, no, no, se non parla niente, io oggi, adesso, te vincere, oggi mi aspetta, trappuccio, il senore, mi chiede, arcangelo pezza, duca di Cassano, ma fra diavolo, non si muore, perché fra diavolo, non si muore, fra diavolo, siete voi, e la gente di qua, è quello che è capace di fare, quando si mettono bene, a fare la cosa, e lo sa fare, e ci apresce, la gente, l'anima nostra, è il 1799, e chi vuole far spostare il 1799, o vuole far riportare in una maniera, sta sicuro, che è un po' bene, per niente.